salve dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione ipnosi dcs vera e professionale con la v maiuscola oggi parlerò di un audio mp3 molto potente dal titolo no a nore sia non sto qui a dirti cosa sente una persona anoressica lo sei tese questo problema oppure il tuo caro la bella notizia ti posso dare che il metodo dicesse quest'audio dicesse di audi prosi dicesse vera professionale serve anche per il tuo caro la tua cara che non vuole essere aiutato aiutata se segui le istruzioni facilissime a prova di non approva di pigro a prova di idiota che ti scaricherà direttamente cliccando sul link qua giù sopra rinunciare ad una colazione al giorno magari per 30 giorni per vedere dei risultati incredibili incredibili nella tua vita nella vita di chi ami di più anche senza la sua volontà sempre a fin di bene io credo che non abbia valore che non abbia prezzo per cui solo a te la scelta tantissime persone nel mondo hanno risolto il problema anche solo con un audio mp3 dicesse dal titolo no a nore sia senza neanche ricorrere a sessione online di prosi dcs vera e professionale con il sottoscritto che al momento sono sospese per problemi di tempo per cui ti risparmi un botto di soldi e senza andare in giro a girare cappella a mettere la famosa tutta a dire i fatti tuoi a percepire di essere manipolata e manipolato per cui cosa aspetti ad invertire ad acquistare il tuo peso ad eliminare questa anoressia che ti sta causando problemi veramente veramente molto gravi prima che sia troppo tardi ok non devi fare nulla sono istruzioni facilissime a prova di non approva di pigro a prova di idiota non devi mettere auricolari non rubano il tuo tempo non ti stressano per cui è facilissimo sono parole naturali potenti create ad arte con quasi un secolo di esperienze che provengono direttamente da los angeles beverly della mia associazione ipnologi associati devi soltanto agire sapi soltanto che l'ipnosi dicesse riconosciuta dalla medicina mondiale dell'associazione medica mondiale come medicina alternativa nel 1958 dalla chiesa con papa che io non scusami nel 1847 sono dalla sveglia intanto succede anch'io sono tutto naturale per dimostrarti che qui non sto né a recitarmi a mettere la mia faccia per perdere tempo farti perdere tempo hai adesso due strade o scegliere questa strada e cambiare pagina se solo se non ha risolto con altri guru attorno a te perché sei risolto va bene così oppure sei risolto e vuoi anche migliorarti perché no perché una cosa non esclude l'altra per qualsiasi dubbi devi sempre andare dal tuo medico che è l'unico responsabile della tua salute perché noi nel sottoscritto fanno diagnosi terapia o cure ma sono solo parola ad aiutarti ad eliminare il tuo problema quindi non ti obblighiamo a sostituire niente nessuno e niente vedi ascolta tutte le persone anoressiche che hanno risolto il loro problema anche con un solo audio mp3 dicesse dal titolo no anoressia scaricalo subito prima che sia troppo tardi visita il mio sito internet www.improdegiassociati.com visita la mia fanpage su facebook ipnosi auto ipnosi del dottore claudio saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione dicesse del dottore claudio saracino a far share condividi con amici parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita e seguimi anche su instagram e twitter benessere ipnosi soluzione dicesse dottore claudio saracino e non devi credere devi fare che un bacio un abbraccio e alla prossima